Primo impegno del 2020 per il Volley Soverato che ha chiuso al meglio il 2019 con otto vittorie di fila e si prepara per il big match di questa giornata, la prima di questo nuovo anno, ospita al Palascopa la capolista Marignano, un impegno sicuramente difficile ma anche stimolante, bello da giocare, la prima della classe contro la seconda in questo Girona sarà sicuramente una sfida affascinante. Ma sì è quello che ho detto alle ragazze che alla fine questa è una partita che bisogna giocarla con la gioia di potersela giocare in queste condizioni di classifica, già qualificati per il genere promozione, già qualificati per la Coppa Italia, otto successi consecutivi per certi aspetti anche non dico inaspettati ma comunque di buon viatico per quello che è stato il lavoro fatto e bisogna giocarsela con questa mentalità, con questa mente aperta. Ho già dichiarato, ho già detto, forse se si poteva in qualche modo aspettare un Marignano primo in classifica in questo momento della stagione forse non avremmo potuto dire la stessa cosa per Soverato e quindi il fatto di giocarsela da prima contro seconda deve essere un motivo di stimolo in più, questo sicuramente. Allora presentiamolo questo Marignano sin qui dominatore di questo Gironea, aveva vinto tutte le partite, poi nell'ultima domenica del 2019 qualcosa è successo forse anche per certi aspetti inaspettatamente perché è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Capolista in casa con Cutrofiano, quindi domenica sarà forse anche per questo una partita con maggiore Pepe diciamo così. Ma guarda, parto da una riflessione, ho visto la partita contro Cutrofiano, Cutrofiano ha fatto la stessa partita che ha fatto con noi, quindi una nota di merito in più per la partita che non abbiamo vinto contro Cutrofiano il 26, che come ho detto non è stato per niente una partita facile rispetto come ho dichiarato di una squadra che secondo me c'è una classifica falsa, bugiarda. Questo significa che comunque voglio dire, Marignano è una squadra che fino ad adesso ha fatto un percorso netto, ha perso questa prima partita in casa un po' inaspettatamente ma con fronte a un Cutrofiano che ha difeso tantissimo, quindi significa che l'arma forse per giocare contro Marignano è proprio quella di difendere, battere bene e difendere ancora meglio. È una partita aperta, secondo me è una partita che va giocata con mente aperta, senza troppe pressioni, prendiamo quello che viene. Io alle ragazze ho detto continuiamo a cercare il nostro miglior gioco, perché poi alla fine credo che al di là delle otto vittorie consecutive quello che ci gratifica molto è la qualità del gioco, che sicuramente è una qualità buona e soprattutto andare a vincere a Milano senza la Silvana, quindi senza Ciausceva, senza calare nell'intensità o nel livello di gioco, significa che veramente le ragazze hanno lavorato bene ed è quello che dobbiamo in qualche modo perseguire come obiettivo nella partita con Marignano. Con la regista del Valle Soverato, Laura Bortoli, presentiamo questo primo match del 2020, sfida alla capolista Marignano, una sfida affascinante, dicevamo, con coach Napolitano, sicuramente molto stimolante per voi che siete riduci da otto vittorie consecutive. Sì, sarà una partita molto difficile per entrambe, comunque venire qui a Soverato non è mai facile e per noi comunque anche dobbiamo rifarci dall'andata, quindi sarà una partita, la sentiamo molto. Diciamo che loro sono brave sotto tutti i punti di vista, quindi sarà una partita molto difficile, però appunto ci crediamo e vogliamo portare a casa anche la nona vittoria. Avete chiuso al meglio questo 2019 consolidandovi come seconda forza di questo girone di serie A2. Si ha l'impressione di una squadra che gradualmente è cresciuta e che ha ancora margini di miglioramento. Hai fatto il tuo giudizio su questa prima parte di stagione? Sì, sicuramente siamo tutte cresciute, a merito anche dell'allenamento che facciamo in palestra. È bello anche perché in questa squadra comunque, che siano titolari, che siano riserve tutte, danno una mano, un contributo e ogni volta che entrano in campo si vedono che fanno la differenza, quindi siamo proprio coese, è una squadra unita. Infine, dal punto di vista individuale anche le tue prestazioni sono cresciute, così come quelle di questa squadra, della squadra Cammin Facendo. Sei praticamente al primo anno da titolare in una squadra come il Vole Severato in serie A2. Diciamo che sin qui comunque le note positive sono tante, sia per la squadra che per te. Sì, sì, beh io sono molto soddisfatta sia come squadra appunto ma anche per me stessa, non avrei mai immaginato comunque di venire qui e essere in questo momento al secondo posto, è un secondo posto che comunque ci siamo meritate e sono molto contenta di essermi tolta tante soddisfazioni.